Buonasera, noi di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale siamo qua oggi domenica e siamo stati qua anche ieri a chiedere l'adesione dei nostri simpatizzanti, dei nostri iscritti e dei nostri militanti su quello che sarà il percorso della rinascita della nuova destra. Chiamiamo i nostri simpatizzanti amici perché si esprimano su quelli che saranno gli elementi caratterizzanti e qualificanti il nuovo programma della destra italiana. Ci sono dieci punti molto importanti, si va dalla concezione dell'Europa, alle nuove riforme istituzionali a partire dalle elezioni dirette del Presidente della Repubblica, così come altri temi di interesse nazionale. In più chiediamo anche ai nostri simpatizzanti di esprimersi sulla scelta del simbolo, quel simbolo che noi presenteremo alle prossime scadenze elettorali. Inoltre siamo qua anche per chiedere un contributo rispetto alla scelta dei delegati che ci rappresenteranno per quanto riguarda la provincia di Terni al prossimo congresso nazionale fondativo della rinascita della destra italiana, che si terrà appunto a Fiuggi l'8 e il 9 di marzo prossimo. È stata una bella esperienza, devo dire che è stata anche un modo per riscendere in piazza con i nostri simboli, le nostre bandiere, le nostre identità. Abbiamo riscosso un discreto successo, un buon successo, siamo a quasi 150 adesioni nel giro di pochissimo tempo veramente e questo ci gratifica da una parte e ci fa ben sperare per il futuro. Le battaglie, le sfide che ci attendono sono chiaramente numerose, sono difficili a partire chiaramente dalle prossime amministrative di Orvieto fino ad arrivare alle europee e anche sul proscenio nazionale e noi speriamo di ritornare ad essere una forza protagonista. Per questo ringraziamo intanto tutti quelli che si sono avvicinati al nostro banchetto, come vedete, come si può vedere è anche un banchetto pieno di bottiglie e nonché di roba da mangiare perché noi oggi festeggiamo, altre forze politiche ad Orvieto chiaramente oggi celebrano altre primarie di tutt'altra, anche importanza ma anche di altra natura da un punto di vista di rapporti e anche meno gioiose e meno cadenti delle nostre. Noi siamo qua, finalmente siamo ritornati e speriamo che questo percorso possa riservarci anche molte soddisfazioni. Ringrazio i militanti giovani che sono qua con noi, che hanno dato una mano veramente fantastica e decisiva affinché il tutto potesse andare nel migliore dei modi. Grazie.